Cari amiche e cari amici di Rossini TV, siamo di fronte al Teatro Rossini di Pesaro, venerdì 30 giugno, ultimo giorno di giugno e secondo giorno del Caterraduno di Pesaro. Per la seconda stagione consecutiva Pesaro ospita questo importantissimo avvenimento che mette la città al centro dell'attenzione per la cultura, per lo spettacolo, ma come vedete non solo, perché qui si parla anche di sostenibilità, si parla di comuni, fra virgolette, sostenibili che oggi saranno premiati nell'ambito di una cerimonia che seguiremo per voi. È un successo dell'idea, della voglia di guardare alla sostenibilità, è un successo di contaminazione di questa sensibilità che guarda alla sostenibilità. Non è semplice, non è facile, bisogna ancora emanciparsi da questo punto di vista come collettività nazionale, europea e mondiale. Noi riteniamo che il contributo che possiamo dare è quello di mettere, di configurare i comuni in una piattaforma che misuri le loro attività quotidiane e non. La cosa che spicca di più è che i territori, ossia i rappresentanti dei cittadini nei comuni, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, hanno questa alta sensibilità. Spicca di più ed è fondamentale, decisiva, perché è quello il front office istituzionale dell'attività politica istituzionale sul territorio. Quindi saper guardare, a prescindere dal proprio colore politico, alla sostenibilità come alla destinazione a cui si vuole arrivare a livello collettivo e individuale, è senz'altro un motivo di grande soddisfazione per noi perché lavoriamo in questo contesto. Ma ci dice anche che c'è una linea lunga, una strada lunga da dover perseguire e sulla quale battere ogni giorno. Facciamo parte di questa rete che è una rete davvero di grande innovazione. Lo staff dei comuni sostenibili dà un servizio incredibile perché misura con 100 indicatori la qualità della vita, la qualità della crescita e la sostenibilità di una città. Spesso e volentieri abbiamo delle classifiche che escono anche su quotidiani autorevoli che non si capisce che valore abbiano dal punto di vista statistico. I comuni sostenibili invece fanno un lavoro davvero di grande profondità in collaborazione con l'Istat, in collaborazione con l'Asbis, utilizzando indicatori che ci sono. E se si vogliono cambiare le cose, se si vuole cambiare il modello di sviluppo bisogna misurare lo sviluppo in maniera differente. Questo è quello che fanno per le città con tanti sindaci che coraggiosamente hanno deciso di farsi misurare, di rendere tutto trasparente e di verificare anno dopo anno se le politiche che fanno migliorano o meno la qualità della vita della propria città. Anche Gabic è stato premiato a Pesaro in occasione dell'incontro organizzato nel Caterraduno come comune sostenibile. Sì, è un premio che divido con tutta la mia giunta, i miei consiglieri e la città perché è il risultato di un lavoro importante iniziato tanti anni fa con questa amministrazione che ha aderito da pochissimi mesi anche a questa importante rete dei comuni sostenibili proprio per far sì che possa essere anche il comune nostro monitorato affinché possa conoscere anche tutte le azioni fatte finora. Ne abbiamo fatte veramente tante di azioni verso la sostenibilità, quindi nuovi percorsi ciclabili, casetta dell'acqua, la colline di ricarica, nuovo centro ambiente, due edifici Enzeb, il primo comune in Italia appunto come edificio Enzeb come sede del municipio. È un'azione che guida un po' noi amministratori quindi ci crediamo molto con azioni concrete dove possiamo cerchiamo di fare proprio queste azioni per ottenere dei risultati.